Sono Calandra Marco, ho uno showroom con mio fratello di Serramenti. Ci tenevo a dare la mia testimonianza in quanto è il secondo tour che seguo di guido. Le nozioni sono importanti, funzionano. Sinceramente l'idea che mi piaciuta è quella di focalizzarsi sul differenziarsi rispetto a quello che fanno tutte quante le aziende del settore. Consiglio a tutti quanti di almeno cominciare partendo dal tour.